Ti sei mai chiesto quali meme coin potrebbero farti diventare ricco? Molti non prendono seriamente le meme coin, ma oggi esploreremo in profondità questo affascinante segmento del mondo delle criptovalute. Scopriremo le 5 migliori meme coin secondo l'esperto Rodney di MyCriptoJourney. Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. Queste monete sono scelte sia per i principianti che per i veterani delle criptovalute. Sono le monete che Rodney possiede e ritiene che faranno bene in futuro. Segui tutto il video e dici cosa ne pensi delle sue 5 scelte nei commenti. Sì, puoi arricchirti con le criptovalute. Su questo canale parliamo spesso di monete con utilità e fondamentali, ma oggi ci dedicheremo alle meme coin. Nei mercati rialzisti, le meme coin sono uno dei modi migliori per ottenere guadagni che cambiano la vita. Rodney, un esperto di meme coin, ci spiegherà perché queste monete possono essere così redditizie e quali sono le sue scelte principali. Rodney, come stai oggi? Rodney Bene, grazie. E tu? La ragione principale per cui mi concentro sulle meme coin è che il mercato delle criptovalute è ancora in gran parte speculativo. Molte persone sono attratte dalla possibilità di vedere il prezzo delle monete salire. Anche Bitcoin, che dovrebbe essere una riserva di valore, viene trattato principalmente come un investimento speculativo piuttosto che come un metodo di pagamento. Nel corso del tempo, abbiamo visto che le meme coin possono fare grandi cose. Tuttavia, è importante capire che sono anche pericolose. La maggior parte delle meme coin sono truffi o progetti falliti. Solo una piccola percentuale di queste monete riesce a sopravvivere e prosperare. Pertanto, è essenziale essere informati e capire quali meme coin hanno un potenziale reale. Prima di parlare delle mie scelte principali, è importante comprendere la cultura delle meme coin. Le meme coin sono nate poco dopo Bitcoin, nel 2013, con la creazione di Dogecoin. Dogecoin è stato creato come uno scherzo, senza valore intrinseco, basato su un meme popolare. È sempre stato incentrato sulla comunità e sul narrativo piuttosto che sulla tecnologia. Dogecoin ha guadagnato popolarità durante il ciclo scorso, principalmente grazie al sostegno di Elon Musk, noto come il Dogefather. Ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 80 miliardi di dollari al suo apice. Questo ha portato alla nascita di derivati come Shiba Inu, che è stato soprannominato il Dogecoin killer, e ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 40 miliardi di dollari. Abbiamo visto un cambiamento nella percezione delle meme coin rispetto al ciclo scorso. Molte delle monete altcoin sono state criticate per essere troppo focalizzate sulla tecnologia, mentre la vera eccitazione e speculazione si trovano nelle meme coin. Le meme coin sono incentrate sulla comunità, sulle narrazioni e ora anche sui contenuti. È importante ricordare che le meme coin sono estremamente volatili. Puoi comprare una meme coin a bassa capitalizzazione, andare al lavoro e tornare a casa trovando che è aumentata di 10 volte o che è crollata. Alcune meme coin sono destinate a durare solo per breve tempo. Per questo motivo, è importante scegliere con attenzione e cercare monete con una solida comunità e un team di sviluppo affidabile. Passiamo ora alle mie cinque scelte principali di meme coin, dalle più grandi alle più piccole in termini di capitalizzazione di mercato. La prima è Pepe su Ethereum. Questa moneta è emersa durante un mercato ribassista e ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1,6 miliardi di dollari. Pepe è una delle monete più popolari e ha una comunità forte e attiva. È la terza meme coin più grande per capitalizzazione di mercato e credo che supererà molte altre monete. La seconda è Bonk su Solana. Bonk ha riportato in vita Solana e ha avviato una nuova ondata di meme coin. È la quinta meme coin più grande per capitalizzazione di mercato e ha una comunità molto impegnata. Credo che Bonk continuerà a crescere insieme a Solana. La terza moneta è Brett su base, il layer 2 di coinbase. Brett è parte della narrativa dei Boys Club e ha una comunità molto forte. È la settima meme coin più grande per capitalizzazione di mercato e credo che raggiungerà i 10 a 50 miliardi di dollari durante il prossimo ciclo rialzista. La quarta moneta è Panky su Solana, conosciuta per il suo contenuto coinvolgente. Panky ha una comunità molto attiva sui social media e una squadra di sviluppo molto impegnata. È la diciassettesima meme coin più grande per capitalizzazione di mercato e ha fatto un 21x dalla mia chiamata iniziale. La quinta moneta è Inu su Avalanche. È la prima e più grande meme coin su Avalanche, una delle blockchain più tecnologiche. La fondazione Avalanche sta supportando le meme coin e credo che Inu continuerà a crescere insieme ad Avalanche. Come bonus, voglio parlare di una mia creazione, Daddy su base. Questo progetto mira a creare una meme coin con una reale utilità, concentrandosi sulla creazione di contenuti di alta qualità per i nuovi arrivati nel mondo delle criptovalute. Vogliamo aiutare le persone a imparare a fare ricerche proprie, utilizzare scanner di token e comprendere meglio il mondo delle meme coin. In sintesi, le meme coin possono essere estremamente redditizie, ma anche pericolose. È importante essere informati e scegliere monete con una solida comunità e un team di sviluppo affidabile. Spero che queste informazioni ti siano state utili. Detto questo, grazie per averci seguito fino a questo punto. Non sprecare il prossimo volo cripto. Grazie per essere stati con noi. Se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo cripto e non sprecarvi una criptoavventura, schiacciate quel pulsante seguimi e attivate la campanella. Pronti a partire? Allora ci vediamo nel prossimo video. Grazie per aver guardato il video.